Si chiamano Livio e Sergio e sono l'esempio di come i giovani con idee innovative possano sviluppare un business anche nel difficile campo dell'agricoltura. Il premio ricevuto in Camera di Commercio a Miliano è proprio rivolto ad aziende nate da meno di un anno che si sono distinte per talento e particolarità. Livio Cantalupo ad aprile 2010 dopo la laurea in Agraria ha deciso di affittare un terreno abbonate sotto, usare le proprie conoscenze per produrre ortaggi di stagione e venderli via internet e attraverso i gruppi di acquisto solidali. Da subito infatti ho pensato di utilizzare internet come strumento per entrare in contatto col cliente, ho scoperto infatti che mi sono reso conto che gente di più diverse fasce d'età ormai internet sa utilizzarlo quotidianamente e quindi impiego lo strumento quale la mail per aggiornarle settimanalmente su come lavoriamo, su quali verdure sono disponibili, su quali verdure questa settimana alla prossima possono portare a tavola. I prodotti sono biologici anche se i Cantalupo non hanno ancora la certificazione dato che hanno iniziato solo da 12 mesi, forniscono oltre 80 famiglie. Quindi io ricevo ad esempio i moduli compilati il martedì e io raccolgo le verdure che il mercoledì stesso le persone potranno ricevere a casa, quindi avranno massimo 12-24 ore dal momento della raccolta. Ma quello di Livio e Sergio non è solo un business, la loro idea in futuro è di rendere l'azienda un luogo di incontro e di scambio un polo culturale dell'agricoltura, a dimostrazione che le buone idee possono dare prospettiva e futuro anche in tempi di crisi. Se si pensa che le aziende agricole condotte dai giovani imprenditori hanno un aumento del proprio reddito del 40% rispetto a quelle che sono condotte da over 30-40, questo fa ben sperare anche perché comunque hanno delle intuizioni sicuramente più aperte che possono migliorare la propria azienda.